Io vado con il palazzo Ah dai, vai Oh, se ci sono fatti, che ti sono ciggenti Merota, fai il nascime! Tanti, 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 tanti Attenzione, raga, che è il... Sì, sì, è il bodyblock, ti posso pure spingere giù Seccia, ma cos'è che è quella roba lì? È il tipo di ecocroce Vai, 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 vai Guarda che da giù E con seccia Io? Sì, sì, vai Vai, tu e te con carabasci Ma che cazzo? Seccia Oh no Cazzo 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 Sì, cazzo Perchè non fai scuola?